buongiorno e benvenuto o benvenuta in questa nuova estrazione mensile del vincitore dell'ora di call gratuita tra gli abbonati attivi gamrod come sai ogni mese effetto l'estrazione del vincitore che contatterò via email e se accetterà potrà fare un'ora di colloquio gratuito un'ora di call gratuita una consulenza gratuita di fatto di un'ora questo è il vantaggio che posso dare solo agli abbonati gamrod non agli abbonati youtube per i quali purtroppo non posso avere l'elenco i contatti diretti mentre sul camaro do l'email ai quali contattarli per gli abbonati youtube sapete già che c'è il vantaggio della diretta studio e della visibilità più altre piccole differenze ma questo ve lo lascio in descrizione nei vari video dove spiego le differenze e i vantaggi degli abbonati ma non perdiamo tempo oltre ci sono 70 abbonati attivi attualmente andiamo su random.org inseriamo il range 70 generiamo il vincitore è il numero 14 il secondo estrarò altri due numeri è il numero 38 e il terzo è il numero 41 gli altri due sono eventualmente in sostituzione del primo se non dovesse rispondere per qualsiasi motivo torniamo sull'elenco attivo salto i primi due perché sono due miei account di controllo e dovrei tornare indietro 14 andiamo a trovare il secondo la 7 38 e andiamo a trovare il terzo bene con questo estratto i tre nominativi provvederò come sempre a contattare il primo e poi eventualmente il secondo o il terzo ci vediamo la prossima estrazione del prossimo mese di febbraio 2023